buongiorno barbie famiglie bentornati in un nuovo video macchina domenica dove si va mercatino e domenica prossima invece domenica prossima no è l'altra ancora mi sa è il 20 no questa è l'altra domenica 25 oggi è il 12 c'è l'idc a milano 25 26 domenica mi ricordo molto guardare comunque non so se domenica accade da 25 26 quindi andiamo anche lì che bello comunque vi portiamo con noi speriamo non lo dico neanche più guardate ci aggiorniamo dopo questo che bello il capellone di una volta ma no oh la faccina guarda il maschetto Quanto vengono? 10 euro, poi ce n'è qualcuno che vengono di più, quelle lì vengono 20 Queste qua invece? Questa 50, questa 20, questa è anni 70, è vecchissima Ok, e invece queste 10? Sì, sono un sessi 10 Dio, sì, cosa qui è? Guarda Ah, signore della Disney, non so chi sia, che cavolo Però no, è messo bene Sì, per Questa qua è una pescione in sasso Questo non capisco chi è? Uno di qualche cartone Sì Eh, mi ero messo nella piazza, mi ero passata, forse non ero ancora arrivata Questa C'è questa C'è questo C'è il costume della Baywatch questo No, è la Baywatch lei Sì Io metto Questa invece No, c'è solo il camper Torniamo indietro, andiamo di là Non penso che comunque Non so, adesso che scriveremo E' una scrivere lo secondo E' una scrivere lo secondo Giamma fuori Ma dov'è? Sono le giostrine anni Ma, ma Chi è? Mi è riuscito Chi è lì? Mi è riuscito Si le avevo viste ma non so se le vorrevo riprese la barbie ha buttata la io non penso quando mai è successo la mia figlia dice bene, allora ci lasciamo finito qui dentro ma non trova mai nulla oh compresa c'è il pollo rotto questo è quello che ho preso non ho fatto il gusto da me che vi per non fare di carne con l'acqua i setini però ci sono possiamo prendere solo i setini sempre in sé guarda guarda cosa mi ricordavo eh, se non guardiamo no eh no, quella è Action Man quella è Victoria delle Space Girls eh, si può aprire eh? oh apri, dammi il sacchettino e non c'è la bombola a piedi vabbè oh si può guardare? appoggiali sopra la scatola queste qua però queste qua però, ah le barbie, volevo fare il blocco se mi interessa tutte le entiere ok, adesso guardiamo ok, guardo ok, guardo questa è quella là in alto con il camper non è il camper non è il camper si più o meno quello della Volkswagen però non è di Barbie lolli lì questa ce l'ho io eccoci a casa oggi eh è il lunedì e ieri beh, ci siamo persi perché stiamo riguardando Shadow Barbie ok, abbiamo trovato solo vestiti ah no, c'erano le barbie come avete visto ma avevano prezze surde aspetta che la coppina chi è? chi è? è il tuo telefono non è qua si muove che cos'hai? che cos'hai? sembrava una mosca sembrava una mosca vabbè dai no no chiudi stavo controllando se stavo facendo uno scherzo perché siamo così illuminate? è illuminatissima vabbè allora sono vestiti allora sta cosa è una ah questo è 5 euro ecco con che cos'è questa roba? non capisco ma ci sono le graffette non capisco non mettetele in testa? no non capisco non pensate di girarti non pensate di barbi ma non capisco cosa sia non capisco ma se lo sapete voi c'è anche le graffette apro questo poso abbiamo lei che l'avevo ancora a lavare? manca solo lei da lavare allora questa giacchetta la camicia adesso non so se tenermi vabbè mi interessano i vestiti però non so se puoi tenere tutto ok questa giacchettina camicia di Ken di Ken sembra perché è bella larga penso proprio che la terrò l'oreale molto bella mi piace mi piace con uno strap davanti molto bella mi piace ma penso proprio che la terrò ci sono due paio di questi ma con lo stesso stile c'è anche questo pantalone ma con lo stesso stile c'è anche altre cose qua dentro ma è uguale a questi che sono dei shorts no mi sa che sono uguali a questi ma tagliati ah forse ah sì quanti a pantaloncino ma quanti perché ma ti dirò che vero dei scintillante questo è con i fiocchi sembra sempre di Ken ma poi abbiamo ma perché corri così tanto ma stai posando c'è una scarpa così questo completo ma sono cose doppie questo completo qua ma composto da maglietta non capisco se è una maglietta ma sono tutti molto colorati ed è la stessa stoppa di queste no no stelline fuori al bordo era di qualche set magari Barbie vestiva così e che e la camicia è questa eccola qua il completo di Ken e il completo di Barbie e questo? Barbie e Ken questa è la camicetta infatti ce ne sono due eh due poi c'è un altro pantalone di Ken uguale quindi è un terzo completo io vedo un quarto però tagliato a pantaloncino ma cos'è questo questo è piccolo questo poi c'è guardate è piccolino sembra tipo pantalone stesi questo sembra prestesi poi c'è questo che non sembra di Barbie sembra di quei babbo natali che vendevano io se ritorno a quella bancarella giuro io lo dico comunque ma questo qui non sembra di Barbie mi sembra di un babbo natale stai quelli che si muovono oh oh eh wiki smazzo questo qua è un vestito rotto molto rotto pantalone uguale oh un'altra maglietta uguale oh un'altra maglietta uguale no aspetta non è uguale questo è aperto si apre ma adesso è uguale al contrario faremo tutta la famiglia Fontana avesse di uguali questo rotto ma tu te lo ricordi quello della bancarella che era? era sotto i portici si aveva uno scappale quelli scappale tipo io torno là e io lo dico cioè un mese prossimo questo me lo devo aggiustare un pantalone una gonna con una vita strettissima 18 euro ma non si deve mai puoi cingugliare io le 18 euro una gonna questo è un pantalone giallo andiamo qua con ordine piano piano giallo pantacolla non sembra mai rotto quindi devo incollarlo ah giusto Ken perché questo è Ken poi c'è Bobby che si veste così uguale e dov'è il pantalone di Ken? uscirà fuori a meno che non sia questo può essere allora ci sono altre 400 maglie aspetta un altro pantalone blu oh maglie che carino questo dai aspetta c'è il verde? per caso avevo già trovato verde sì perché ce ne sono altri 40 qua dentro di pantaloni verdi uguali pantalone verde uguale un altro pantalone verde questo è perché poi c'è un altro pantalone tagliato verde ma c'è un altro pantalone tagliato verde c'è un'altra maglietta di Ken al contrario rosa c'è la gonna di questa è già il secondo perché poi c'è il terzo completo perché poi c'è un'altra maglietta di Ken uguale perché poi c'è un'altra gonna uguale oh abbiamo qualcosa di diverso di Ken però col colletto verde madonna che colletto forse è la camicia di questa penso sì è verde oh un'altra camicia verde oh un'altra camicia verde oh altri pantaloni di Ken tagliati oh un'altra maglietta di Ken eh sì perché c'è il blu adesso c'è questa no c'è tutti completi questa gonna qui questo con cos'è questo con questo quanto hai pagato diciamo la maglietta della diadora tutta rotta e sfucita questa tuta che penso che ci hanno fatto un cuore nel sedere ehi tu cucciola il calzino da micchi oh tira i love leo leo di caprio tu sei bello bello carne che italiano e qua non si capisce una beata viccia bella questa tutina una dedica una dedica Leonardo Leonardo Di Caprio sicuramente questa che ha scritto sulla tutina avrà visto Titanic 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 ah e questo era il cuore di Leonardo Di Caprio si aspetta fammi provare no aspetta ma è tutto scucito tutto rotto ma cosa poi c'è una magliettina azzurra va vabbè questa grande tutta bella che è con tagliato sì perché qua c'era il tascone era anche bella allora non so se è un top l'hanno anche rovinata oppure una gonna rossa tutta unita l'associizzata in vita poi c'è questo perché non penso che sia non si capisce cos'è davanti ok ma dietro sarà una manica di una camicia di quella bambina lì I love di Leonardo Di Caprio poi c'è questa maglietta peccato che non c'è il pantalone questo vestito che c'è quello l'ho visto l'ho vista la giacca di topolino bucata ah no la giacca di topolino l'ho vista qua questo proprio che cos'è vabbè l'ho vista oddio un vestito fatto a mano allora non era guarda che bello mamma ma io ho visto la giubbetta di topolino sarà in mezzo qua ma non l'hai fatto vedere scusa l'hai detto tu eccola qua e questa è la sua con le maniche tagliate le maniche tagliate poi abbiamo per ultimo uno stivale e questa cosa non perdiamo i vestiti questa cosa che non so dovrebbe andare così questa cosa l'hai fatta vedere? no questo l'hai fatto vedere? forse questo andrà con questo? ma sento che non hai preso fuori dal sacchetto le robe sì sto mettendoli via la gonna arancione in jeans in questa cosa guarda 18 euro 18 euro 18 euro 18 euro di schiaffone in faccia spivale poi 5 euro questo voleva 5 euro sì 3 euro gli ho dato cos'è sta roba qua? vaffanculo va da vedo cose che un telefono piccolissimo mignon le racchette di tennis uno stivale rotto l'altro pezzo è caduto beh bello questo stivale la maschera che come va maschera questi altri stivali un cappellino una spazzola uno stivale è uno stivale non so che cosa sono diversi guardate come sono belli questo non so cosa sia dentro nemmeno è proprio bello barbie ha una gamba più lunga dell'altra vabbè questi do via tutto farò un lotticino piccolino con scelgo i vestiti e farò un lotticino una collana non me lo dire sono super arrabbiata o un piercing da mettere nel naso così che schifo io non me lo metterei oppure una una borsa da me via perdiamo le cose che sono rare e preziose da quella bancarella non si compra più niente basta con me hai chiuso ma è chiuso vabbè dai i vestiti mi piacciono un po' troppo un po' troppo uguali però vabbè 18 euro non sono di barbie non penso te l'ho detto io 18 euro non li vale secondo me la prossima volta vai a vendere le patate che è meglio perché e niente diciamo concludiamo questo video pietoso questa volta veramente che vergogna allora quando le barbie sono rotte e mangiate non ce ne frega niente che sono antiche dell'antichità greca antica grecia si parla simona ok non li potete vendere a questo prezzo poi dipende allora la cara ballerina mangiata cioè aveva non aveva non aveva metà piede e l'altra metà piede era tutta morsicata aveva le mani mangiate e oltretutto i capelli bruciati e la testa bianca voleva 10 euro un po' troppo un po' troppo beh dai chiediamo sto video pietoso 14 minuti madonna ciao ragazzi con questo video è tutto vi raccomando almeno il like supportateci voi con i like perché veramente dai devo andare a lavare tutti gli stili sì perché schifo da l'ora di domenica dai zitta zitta ciao 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 ciao